Dai, la sua prestazione ti... Sì, dai! Borca Valero, allora, a questa attesa hai provato questa esperienza di attendere la moglie a una maratona, che cosa si provi? Eh, una bella emozione, ha lavorato tantissimo per poterla finire con questo bel tempo e siamo molto contenti per lei. Senti, lei è soddisfattissimo, ovviamente avete scelto Firenze anche per fare la maratona, insomma, alla grande. Non poteva essere in altro modo, abbiamo vissuto tantissime cose qua e la prima maratona la dovevamo fare qua. Ti sei portato dietro anche Icardi, lui che dice? No, è contento, è venuto anche lui a aiutarci per sostenerla e siamo contenti che abbiamo questi bei amici. Senti, un'ultima battuta, siete in testa alla classifica, anche se poi adesso deve giocare il Napoli. Quindi è una soddisfazione, al di là delle amarezze che sono arrivate in quest'estate quando, insomma, c'è stata un po' una situazione non facile. Non è stato facile, però alla fine uno si prende qualche gioia ogni tanto. Grazie. Grazie a te.